ciao ragazzi oggi vi presenteremo i nostri piombi sono dei piombi intercambiabili si parte da 10 grammi fino a arrivare a un 70 grammi il bello di questo piombo qual è che se voi arrivate al lago con le canne montate avete montato la sera prima un piombo da 10 grammi cosa succede i pesci vi accorgete che sono fuori dovete uscire un po di più oppure sale del vento senza tagliare il vostro filo andate a fare questo lavoro 1 1 2 i gommini rilasciati all'interno il piombo lo andate a sostituire e da 10 potete addirittura passare alla misura massima i 70 grammi in questo modo tutto questo lo potete fare senza tagliare il filo eccoci qua ve lo facciamo vedere in evidenza 11 grammi stacchiamo e andiamo ad inserire tutto questo senza tagliare il filo novità assoluta il piombo lo abbiamo creato anche con l'ottone fresato non lo stesso identico per cui diventerà indistruttibile eccoli qua brass weight il piombo in ottone